buongiorno oggi ci troviamo a pregassona per mostrarvi questo appartamento di tre locali al mezzo ci troviamo al terzo piano e siamo serviti da ascensore entriamo all'interno dell'appartamento un appartamento molto luminoso il pavimento è incomposto in grass porcellanato questo è il salotto con il suo grande terrazzo abbiamo immediatamente una cucina aperta una cucina composta da elettrodomestici simens tra cui piano cottura in vetro ceramica forno lavastoviglie e frigo con congelatore vi mostro il terrazzo un terrazzo di generosa metratura che ci fa godere di un'ottima esposizione solare durante l'arco della giornata ora passiamo alle camere prima di accedere alle camere ci troviamo un comodo armadio muro già presente questo è il bagno un bagno in cui c'è la predisposizione per poter attaccare la propria lavatrice o eventualmente c'è la disponibilità di una lavanderia condominiale questo bagno è composto da box doccia lavandino con il suo mobile e una toilette procedo alla camera matrimoniale una camera matrimoniale di generosa metratura come potete vedere parte dell'arredamento è già disponibile ora accidiamo alla prossima camera ci troviamo una camera singola sviluppata in lunghezza le camere come potete vedere sono composte da un caldo parquet ora vi mostro l'ultimo bagno prima del bagno abbiamo un altro comodo armadio muro eccoci il bagno bagno composto da un grande lavabo con la sua specchiera vasca da bagno in più abbiamo anche bici e bidet ci troviamo in una zona tranquilla di pregassona a pochi minuti abbiamo a disposizione i negozi numerosi servizi e l'accesso diretto all'autostrada in questo appartamento è disponibile un posto auto in auto rimessa sono messi animali di piccola taglia previa valutazione se siete interessati a questo appartamento contattateci ti affitto grazie